benvenuti nelle recensioni in audio di navigando parole io sono daniele zaccone e oggi parleremo di on the road di jack kirouac il romanzo cult della cultura beat americana che è un vero e proprio manifesto che non si limita a raccontare una storia quella del protagonista ma che delinea un profondo cambiamento di una società sull'onda della ricerca della libertà kirouac ci porta con sé attraverso gli states da una costa all'altra e le coscienze di giovani americani scoprono un desiderio di anticonformismo in antitesi con l'epoca on the road di jack kirouac è un'opera fondamentale della letteratura americana del ventesimo secolo spesso considerato il manifesto della beat generation questo romanzo pubblicato per la prima volta nel 1957 è un resoconto semi autobiografico dei viaggi di kirouac attraverso l'america del nord insieme ai suoi amici alla ricerca del senso della vita della libertà e dell'avventura la narrazione si basa sulle esperienze personali dell'autore con le figure chiave del movimento beat come nel caso di dean moriarty nel libro e allen ginsberg carlo marx nel libro la trama il libro segue le vicende di sal paradise alter ego di kirouac un giovane scrittore affascinato dalla figura carismatica e ribelle di di moriarty insieme intraprendono una serie di viaggi on the road attraverso gli stati uniti e il messico spinti da un insaziabile desiderio di vivere esperienze intense e autentiche questi viaggi sono caratterizzati da incontri fugaci amori amicizie musica jazz e poesie e droghe la strada diventa una metafora nella ricerca della libertà della fuga dalle convenzioni sociali e della scoperta di sé il tema è centrale di on the road la ricerca incessante della libertà e dell'identità in una società post bellica percepita come oppressiva e priva di valori autentici il romanzo esplora anche l'amicizia la spiritualità la povertà il desiderio di evasione e la passione per il viaggio come mezzo di conoscenza interiore e di esplorazione del mondo kirouac cattura l'essenza di una generazione disillusa in fuga dalla monotonia e dalle aspettative della vita borghese in cerca del significato più profondo dell'esistenza i personaggi sal paradise il narratore e protagonista del romanzo un giovane scrittore in cerca di ispirazione e avventura dean moriarty basato sul nil caseri è l'amico indissolubile di sal simbolo della libertà estrema e dell'impulso vitale ma anche dell'instabilità e della distruzione carlo marx alter ego di alan gisberg poeta e amico di sale din rappresenta il legame con il mondo della letteratura e della riflessione intellettuale marilu camille terry figure femminili che rappresentano diversi aspetti dell'amore della relazione con di nessal tra passione cura e complessità emotiva parliamo del viaggio il viaggio che jack kirouac descrive in on the road è il percorso emblematico attraverso l'america che incarna la ricerca di libertà avventura scoperta di sé il viaggio non è solo fisico ma anche spirituale ed emotivo riflettendo le ansie le speranze e le disillusioni di una generazione post bellica kirouac attraverso il suo alter ego sal paradise e il suo compagno di viaggio di moriarty esplora varie città paesaggi e comunità degli stati uniti in un'epoca di grande cambiamento culturale e sociale il viaggio inizia a new york dove sal paradise vive spinto dal desiderio di cambiamento ispirato dall'energia incontenibile di dean moriarty sal intraprende il suo primo viaggio verso l'ovest attraverso gli stati uniti fino a san francisco questo primo viaggio è caratterizzato da un senso di scoperta ed incontri con sconosciuti che condividono storie e filosofie di vita diverse dopo il suo ritorno a new york sal parte nuovamente questa volta esplorando differenti parti del paese tra cui denver dove incontra altri membri della beat generation come carlo marx alter ego di allen gisberg e altre figure chiave del movimento i viaggi si susseguono con sale dean che si spostano tra chicago new orleans san francisco los angeles e numerosi altri luoghi inclusa una significativa deviazione attraverso il messico dove i protagonisti cercano esperienze ancora più intense e liberatorie i viaggi in on the road sono una metafora della ricerca interiore la strada rappresenta la vita stessa con le sue opportunità i suoi pericoli e le sue gioie le sue delusioni chi lo ha che esplora temi come l'amicizia l'amore la perdita la povertà la ricerca di significato più profondo nell'esistenza attraverso queste esplorazioni il romanzo cattura l'essenza di una gioventù inquieta che rifiuta i valori materialistici e conformisti della società americana del topo guerra in favore di un'esistenza più autentica e spirituale il viaggio descritto in on the road ha avuto un impatto profondo sulla cultura americana ispirando generazioni di lettori a cercare la propria libertà e avventura il romanzo ha contribuito a definire l'immagine del viaggiatore americano istillando l'idea del viaggio come mezzo di auto scoperta e ribellione contro le norme stabilite la rappresentazione vivida e senza filtri dell'america con le sue bellezze contraddizioni complessità ha offerto una nuova prospettiva sul sogno americano e sul significato della libertà individuale in conclusione il viaggio in on the road è un viaggio emblematico che va oltre la mera attraversata geografica per diventare un'esplorazione delle condizioni umane attraverso questo viaggio kirouac non solo documenta un momento cruciale della storia americana ma offre anche una riflessione profonda sulla ricerca di significato libertà e appartenenza in un mondo il rapido cambiamento parliamo brevemente dello stile di scrittura e delle tecniche usate lo stile di scrittura di on the road è immediato spontaneo e fluente e caratterizzato da lunghe frasi ritmiche che riflettono l'influenza del jazz e la tecnica del flusso di coscienza kirouac adottò quello che lui chiamava il metodo spontaneo di prosa cercando di catturare il senso dell'istante senza la mediazione della revisione e dell'editing convenzionale scrisse la versione più famosa del romanzo in sole tre settimane su un unico rotolo di carta per mantenere la continuità e la fluidità del racconto il manoscritto originale di on the road fu scritto appunto su un unico rotolo di carta a lungo 36 metri per evitare interruzioni nel processo di scrittura on the road ricevette recensioni miste al momento della pubblicazione con alcuni critici che loro darono come un'opera geniale mentre altri lo criticarono per la sua moralità discutibile e il suo stile apparentemente non rifinito kirouac e i suoi compagni di viaggio furono influenzati da una vasta gamma di filosofie e religioni incluse il buddismo cristianesimo all'esistenzialismo e l'umanismo che permeano il romanzo in diverse forme nonostante il successo di on the road kirouac ebbe una vita personale torbolenta e morì a soli 47 anni lasciando dietro di sé un'eredità letteraria complessa e influente on the road rimane così un testo fondamentale per comprendere il disincanto e la ricerca di significato di una generazione attraverso la sua narrazione vivace e i suoi personaggi indimenticabili kirouac non solo ha documentato un momento cruciale della storia americana ma anche espresso un ethos universale di libertà e scoperta personale che continua a ispirare lettori di tutte le età spero che questa recensione possa avervi creato curiosità sul romanzo on the road un vero manifesto della beat generation se non l'avete ancora letto molto molto male ma rimediate subito andando a comprare mi raccomando ascoltate le nostre recensioni iscrivetevi al nostro canale e mi raccomando leggete leggete sempre perché leggere rende liberi ciao a tutti e alla prossima recensione